Con l'arrivo della concessione ventennale Enac, il Clemente Panero può finalmente decollare, un'importante rinascita che consente allo scalo in gauno la ripresa di tutte le attività incrementate da nuovi obiettivi di collaborazioni europee. Si riparte dunque con gli elicotteri di Air Monacotra, Principato di Monaco, Sanremo, Imperia, Loano, Savone e Genova, per un traffico aereo innovativo, a costi contenuti e interessanti soprattutto per i turisti e i diportisti della Costa Azzurra e della Riviera di Ponente. È una situazione completamente nuova che si configura per la prima volta perché finalmente all'aeroporto è stata affidata concessione ventennale in regime di gestione totale. Questo vuol dire che l'aeroporto per vent'anni può investire sul sedime, investire sulle compagnie, può investire sull'immobiliare, può essere un'opportunità di interesse per degli investitori privati perché è un aeroporto che si presenta con un bilancio con perdite contenute in poche centinaia di migliaia di euro. È un aeroporto snello, un aeroporto dove è possibile inventare, fare un tipo di aviazione, di assistenza al traffico, business ed affari che non c'è in Italia, in una posizione strategica. Finalmente si può parlare di pensare a un piano industriale degno di questo nome e non a un piano industriale che serve per trabordare una situazione, chiedere soldi. È importantissimo perché in questo modo si potrà finalmente arrivare al valore dell'aeroporto e questa è una cosa importante. Attualmente ogni volta che c'era un aumento di capitale si aumentavano delle azioni. Adesso dobbiamo arrivare al valore. Adesso l'aeroporto ha la possibilità, l'opportunità di pianificare il suo futuro per vent'anni. Tenete presente che c'è l'obbligo finalmente, anche e non finalmente, di mantenere comunque il rispetto di una gestione efficace ed efficiente dal punto di vista economico. E questo la dice lunga sulla necessità di cercare uno sviluppo economicamente sostenibile che non costringa i soci o il partner di riferimento a continui investimenti in marketing. Perché se il traffico e le linee di business si sostengono diventano un'opportunità. Oggi come oggi non è più possibile drenare traffico su iniziative che da sole non si regolano. Ma fondamentale, oltre alla posizione strategica e anche l'intesa con la Piaggio Aereo Industries, gli investitori privati che vorranno scommettere sullo sviluppo dell'aeroporto e del traffico aereo che sarà generato dalle nuove linee guida e da un bilancio sempre più positivo. Cercheremo veramente di particolare questo aeroporto con l'opportunità che abbiamo avuto, con la Piaggio e tutto il sistema che adesso vorremmo andare alla privatizzazione. Oggi nel CDA di oggi abbiamo già deciso di fare un'assemblea con i soci per iniziare a fare la privatizzazione, una gara europea pubblica a tutti.